Bella a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Brawl Stars Oggi vorrei fare le 5 box e poi aprirle in un video speciale e aggiungere le 5000 coppe La prima partita la vorrei fare con il mio unico raggiungere, cioè Spike Vai Ok Ok Ok, ci siamo Lag Prima cassa spaccata Andiamo a vedere, ecco, ha avvistato una cassa, manca una bibi Eh, io l'ammazzo questa bibi Eh, vuole prendere vita, ma io non la faccio prendere vita Non scapperà No, lag ragazzi Mori bibi No ragazzi, no, 100 di vita Anzi 1000, scusate Meno 7, vabbè Gioca ancora Faremo 3 partite Speriamo in bene questa partita Ok, c'è un broccolo L'ultimo colpo ragazzi, vai C'è una rosa là Che lì, proviamo No, un robottone No, un robottone ragazzi Speriamo che non c'è nessuno qua Ecco, ha avvistato una bibi Oddio ragazzi, oddio Quanti kills abbiamo fatto No, e questo ci ammazza ragazzi Infatti Infatti ragazzi Ci ha ucciso questo Scemo Ok Facciamo un altro partito Spike 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 Ok Ci siamo Prima che aprire Ma perché non apre? Vai, 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 vai Vieni qua Così Abbiamo inventato quella rosa Adesso uccidiamo questo Beryl È ucciso Infatti Uh, Spike contro Spike Spike contro Spike Scappa Oddio ci ha fatto male Quello Spike Adesso curiamoci E possiamo andare alla battaglia Agiriamo questo robot No ragazzi Cos Vabbè Non ho capito Però Va bene Ok ragazzi Facciamo un'ultima partita Sì Facciamo un'ultima partita Sì Un'ultima partita Cioè Non un'ultima partita Andiamo a farne altre Ok Due cassette Da aprire per noi Ma perché fa così poco donno? Vabbè Cioè Dovrebbe fare da vicinissimo 2400 Pronto Un eugenissimo Vai via Eugenissimo È morto eugenissimo Non ho 40 di vita Io Ragazzi Questi scemi Io non li sopporto C'è ne che è scemo Cioè Sono stato io Scemo Non li sopporto quando un tizio rimane 4 di vita Cioè 4 di vita rimasto Adesso proviamo a cambiare brawler Vorrei portare anche su tic Andiamo in due Adesso Se non mi sentite Vuol dire che mi sto concentrando Perché Sì Ecco Cioè mi sto concentrando Ecco No che schifo coppio Piper E tic La coppia più schifosa del mondo Lagga ancora Cerchiamo di dittare quel bo Ci siamo riusciti Andiamo via Piper Che sta arrivando il robottone Scappa 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 Mi aiuto Ah mi sono fermato Vai ragazzi Vai 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 Eh sono morti Grande Piper Vai 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 così vai così Piper Cerca di non morire Grande No Da un secondo che arriva Sì Più 4 per noi E meno È qualcosa per il parco Grado 6 di tic Beh sto cercando di portare Io sto cercando di portare Tutti i brawler Al grado 10 Poi al livello 10 Allora Vediamo che cosa c'è nel notizio Niente Allora Allora andiamo con Bo Perché mi ispira Frank mi ispira E cambiamo Andiamo in campetto Vediamo se siamo dei bravi giocatori di football Allora Allora Ho fatto una cazzata ragazzi Ok Andiamo per di qua noi Speriamo di fare gol No ragazzi Troppo troppo Adesso dipendo da noi Uh ragazzi L'ho salvata Oh io l'ho salvata O quel colto Vabbè Adesso Andiamo là Non ci ha colpiti Benissimo Adesso Lasciamolo No ragazzi Vabbè Speriamo che non ci facci una gol E ci sono io Sì L'ho salvata sul pelo No Vabbè E ci ha fatto gol però L'avevo salvata Però Ok Scappa Scappa Poccio Vai Grande Poccio Nostro portierone Grande X X Ci ha fatto fare il gol Ma volevo usare la ultima ragazzi Bum Blocati tutti Gol ragazzi Gol Le mie super ulti E il mio super tiro Pam 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 Più otto Per noi Dai così ragazzi Ok Per oggi è tutto Per oggi è tutto Ci becchiamo al prossimo video E Non dimenticatevi di Spollicere al massimo E Iscrivervi Per altri episodi E Bella Ragazzi E Ciao 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 Ciao